Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo a parlare di Hume, è questa l'ultima lezione dell'autore e in particolare della sua politica. In un testo intitolato Il contratto originario, Hume va a prospettare due tesi opposte, cioè le teorie sull'origine del potere possono avere due basi fondamentali, la teoria del diritto divino e la teoria del contratto sociale. La teoria del diritto divino, dice Hume, è giusta perché come tesi generale ci consente di andare a formulare un piano che la provvidenza vuole per lo Stato, per la nazione in questione. Ma nello stesso momento l'autorità del sovrano che è legittimata addirittura dalla provvidenza divina può in un certo senso essere anche messa in contrapposizione con quella che invece è la teoria del contratto sociale. La teoria del contratto sociale, e anch'essa Hume la qualifica come una teoria giusta, va a dire che è il popolo all'origine di ogni potere e non un sovrano andato a essere istituito da una provvidenza divina per il popolo. Quindi gli uomini vanno a abbandonare in qualche modo la loro libertà nativa, naturale, per invece assoggettarsi alle leggi. Accettano le leggi perché? Per vivere in pace. Le leggi sono l'elemento fondamentale che consente alla comunità, alla società umana di vivere in modo pacifico. I governi sovente nascono però da conflitti, da rivoluzioni, da conquiste, da usurpazioni proprio perché le leggi sono differenti nel tempo e differenti da uno stato all'altro. Bisogna quindi riuscire a generalizzare per Ium quelli che sono i doveri fondamentali umani al di là quindi dell'appartenenza ad una religione, ad una nazione, ad un sovrano o ad uno stato. E quindi per la politica diciamo così universale, internazionale, Ium va a individuare i doveri umani in principalmente due classi di raggruppamento. Uno è il gruppo dei doveri spinti dall'istinto naturale e l'altro gruppo è quello dai doveri che l'uomo sente per senso di obbedienza alle leggi per vivere nella comunità. I doveri dell'istinto naturale sono l'amore per i figli, l'amore per la famiglia, l'amore per le persone a noi care ma nello stesso tempo la gratitudine per chi ci vuole bene e la pietà per chi è più sfortunato di noi. Questa visione di un istinto naturale d'amore, di pietà, di gratitudine sono elementi forti che fanno vedere come la natura umana per Ium sia fondamentalmente buona improntata da valori positivi e nello stesso tempo appunto ci vuole però un'adesione alle leggi sociali perché questo porta giustizia, non basta l'amore perché si viva in pace. ci vuole il rispetto ad esempio della proprietà altrui quindi la mia libertà finisce quando finisce la libertà dell'altro quindi io non posso andare ad impossessarmi di qualcosa che non è mio perché quella è una sua proprietà. l'altro elemento fondamentale è la fedeltà e la fiducia se io non vado a dare fiducia non potrò in cambio riuscire ad avere fiducia quindi la fedeltà è un elemento fondamentale delle leggi dello Stato l'osservanza delle promesse e l'obbedienza politica e l'obbedienza civile ma allora dovremmo chiederci se siamo obbligati se c'è un dovere civile all'obbedienza allora dobbiamo sempre vivere anche in situazioni ingiuste, impossibili quindi no, questo Jung naturalmente non lo dice ma bisogna andare ad obbedire proprio agli elementi che vanno a ostacolare la giustizia l'obbedienza deve essere portata avanti tenendo però sempre in mente che ci sono delle eccezioni che ci consentono di difendere il diritto di verità e la libertà offesa ovvero se io vedo che ci sono elementi di ingiustizia nella mia società di mancanza di libertà e che ci sono degli elementi di finzione, di falsità io posso ribellarmi allora a quel punto all'obbedienza alle leggi perché io devo far vedere quanto quella legge magari è sorpassata, è superata o in quell'eccezione particolare di cui io sto facendo esperienza quella legge non può valere più e quindi deve essere aggiornata, cambiata, modificata seguendo naturalmente il principio di ragione grazie, arrivederci